I dati Prometeia sono dati previsionali che registrano un sostanziale rallentamento del nostro sistema economico dovuto a una dinamica inflattiva che continua e ovviamente è in qualche modo anche legata all'aumento dei tassi di interesse che tende proprio a combattere questa inflazione che fa aumentare il costo delle materie per la produzione. Il 2023 sarà un anno di rallentamento mondiale con evidenti ricadute anche a livello provinciale nonostante alcuni segnali di tenuta dell'attività economica che contribuiscono a delineare un quadro meno nero di quanto stimato lo scorso anno. Sono i dati Prometeia elaborati dalla Camera di Commercio sull'andamento dell'economia aretina. In provincia di Arezzo, sottolinea il presidente Massimo Guasconi, il valore aggiunto 2022 si dovrebbe attestare a fine anno a circa 9,48 miliardi di euro in crescita del 4,7. Nel 2023 è evidente la ricaduta con un valore aggiunto di 9,96 miliardi e una crescita dell'1,4%. Non sostanzialmente ma comunque significativamente rallenta anche l'occupazione e le unità di l'Eula, la cosiddetta unità che determinano l'attività dell'occupazione. Analizzando i singoli settori, l'agricoltura, dopo aver subito una perdita nel 2021, dovrebbe recuperare abbondantemente negli anni successivi. Al contrario, il manifatturiero, dopo un brillante 2021, nei successivi anni potrebbe subire un decisivo rallentamento. Le costruzioni, grazie alla potente spinta degli incentivi fiscali, crescono nel 2021 e nel 2022, ma nel 2023 invece si registra un sensibile rallentamento. Per quello che riguarda le costruzioni sarà un anno ancora buono, però le prospettive non sono delle migliori perché nel 2024 si prevede anche qui un forte rallentamento, sicuramente influenzato dalla dinamica delle materie prime e dei prezzi. Dal punto di vista dell'occupazione, ripeto, ci dovrebbero essere una sostanziale ripresa e consolidamento, anche se collegata a una diminuzione delle ULA, quindi ad un'attività che sarà minore, quindi una percentuale inferiore degli occupati che saranno impegnati in attività lavorative. I servizi, dopo aver chiuso il 2021 con un più virgola 3.8%, accelerano ulteriormente nel 2022, per poi manifestare segni di rallentamento nel 2023. Per quanto concerne poi il reddito disponibile delle famiglie retine, a valori correnti le stime mostrano una crescita del 6.6% nel 2022, per poi assestarsi nel 2023, un andamento che però non tiene conto della dinamica inflattiva. Si parla di un più 3.5% per quanto riguarda il reddito e un più 5% dei consumi, ma l'anno precedente era stato più 12% dei consumi, quindi è più che dimezzato la previsione per quanto riguarda l'andamento dei consumi.